buona giornata spesso e volentieri la paura il calcolo ci rendono bloccati non compiamo più le cose da fare perché perché appunto c'è paura sono già definiti i propri confini so già che cosa mi accade so già dove poter rifugiarmi attraverso e nella mia vita in questo in questo spazio guardate come spesso la novità va a allargare i propri confini la novità che il signore mette nella tua vita la novità che il signore mette in questa giornata diventa un'occasione forse per combattere le nostre paure ma soprattutto per dare un percorso anche a quanto di bello c'è attraverso la risposta alle novità che ti accadono occorre saperle discernere è vero queste novità ma inizia a rispondere nel bene alla novità che ti viene proposta il signore ti illumina e ti benedica buona giornata